Ottima cucina e un servizio cortese e puntuale fanno del ristorante da Caveccia la location perfetta per festeggiare il giorno più bello della vostra vita. Grazie alla professionalità dello staff, in questo locale, voi e i vostri ospiti, conserverete un bellissimo ricordo del banchetto e di ogni momento della festa. Il ristorante da Caveccia dispone di una grande sala perfetta per banchetti. In questo spazio rifinito con cura, con pavimenti in parquet e grandi vetrate, avrete la possibilità di sbizzarrire la vostra fantasia, personalizzando le decorazioni e la disposizione dei tavoli per un banchetto con i fiocchi. L'ampio portico esterno adiacente al grande parco consente, nel periodo estivo, di predisporre il buffet di benvenuto, il pranzo e l'eventuale taglio finale della torta nuziale all'aperto, in un contesto suggestivo e ricercato. Al vostro servizio troverete un personale attento che collaborerà alla perfetta riuscita del vostro evento, proponendovi servizi di qualità che contribuiranno a fare del vostro sogno una bellissima realtà. Nelle cucine del ristorante da Caveccia, tradizione e innovazione si incontrano per offrire ai clienti menù di alto livello, in grado di conquistare i palati più esigenti. La cuoca esperta saprà garantirvi pietanze gustose dall'aspetto raffinato, che lasceranno a bocca aperta i vostri invitati, regalandovi grandi soddisfazioni e contribuendo alla perfetta riuscita del vostro giorno più importante.